Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. In FIPL per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Cinestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. In conseguenza dell'emergenza sanitaria del coronavirus, nell'ottica di porre un limite ai contagi, raccomandiamo a tutte le persone di limitare, ove possibile, gli spostamenti ai casi strettamente necessari, secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!